È un lavoro completamente diverso e nuovo quello dell'autore Mario Contino che con la sua «Lirica oscura», scritta durante il periodo di isolamento causa Covid-19, accompagna il lettore in un viaggio nei meandri più silenziosi e nascosti del suo animo. È lui questa volta a scendere in campo e a mettersi in discussione mettendo nero su bianco le emozioni più dure che come in una pentola a pressione esplodono sotto forma di parole forti e lontane dal linguaggio composto e quasi didattico a cui siamo abituati. Dalla post-fazione di Carbonara Pierangela